Parte dall'analisi del voto delle ultime politiche per poi concentrarsi sulle imminenti regionali Michele Marone che già da qualche settimana ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della regione molise appoggiato per il momento da tre liste numero a quanto pare destinato a crescere. Il risultato dei 5 stelle è stato definito da Marone uno tsunami che ha travolto tutto. La gente si è rotta le scatole a voglia di cambiamento e noi come aggregazione popolare liberale ha dichiarato vogliamo frapporre a questo partito della protesta una forza di responsabilità basata su un programma chiaro e su una proposta politica nuova che vada incontro alle esigenze dei cittadini affermato Marone che va avanti deciso e sempre più convinto nonostante diversi esponenti del centrodestra lo abbiano chiamato per chiedergli un passo indietro. Il Molise ha bisogno innanzitutto di essere salvato, il Molise ha bisogno di lavoro, di lavoro per i giovani, ha bisogno di una garanzia della sanità, ha bisogno della garanzia del diritto alla salute a tutti i cittadini molisani, ha bisogno di un intervento straordinario su tutte le reti stradali che purtroppo rendono attualmente inaccessibile la maggior parte delle aree interne, ha bisogno di un sostegno delle aree interne che rappresentano circa il 90% dei comuni molisani, ha bisogno di una innovazione nell'agricoltura, ha bisogno che l'agricoltura torni a essere remunerativa per i nostri agricoltori e per i nostri allevatori e poi c'è bisogno di un intervento strutturale di promozione della nostra regione, questo sotto il profilo del turismo. Il turismo è stato sempre e soltanto oggetto di meri slogan, viceversa il turismo può rappresentare il vero petrolio della nostra regione. L'esponente di energie per l'Italia dice no alle larghe intese che stanno prendendo piede nelle ultime ore e che lasciano presagire a detto solo inciuci a cozzaglie che potrebbero garantire anche una vittoria ma non certo la governabilità. E sulla recente convergenza di tutte le forze del centrodestra sulla figura del giudice Enzo Di Giacomo per la candidatura alla presidenza della regione, Marone ha risposto così. Il centrodestra ha già deciso di fare delle larghe intese attorno al presidente del tribunale di Sernia. Michele Marone, ma non sotto il profilo personale, Michele Marone fa un ragionamento di natura generale. La politica se si deve rigenerare come deve rigenerarsi assolutamente non può farlo affidandosi alla magistratura perché la magistratura rappresenta un diverso potere dello Stato e la politica si deve e si può rigenerare soltanto con nuove persone, nuove figure che hanno voglia di impegnarsi e sacrificarsi per il raggiungimento del bene comune per il sostegno della famiglia, per il sostegno della solidarietà, per il sostegno della comunità.